buongiorno carissimi ben trovati in questo mercoledì della seconda settimana del nostro tempo di avvento oggi anche memoria di sant'ambrogio vescovo e dottore della chiesa quando le gomme della macchina sono un po sgonfie si fa pure difficoltà a camminare ma ne va anche della sicurezza non soltanto di chi guida ma anche di coloro che si incontrano lungo la strada si fa anche difficoltà a tenere un po il manubrio perché la macchina cerca di andare un po di qua un po di là e così capita anche nella nostra vita quando le nostre gomme sono un po sgonfie quindi siamo un po abbattuti siamo un po dispiaciuti siamo un po afflitti di alcune situazioni e bene dobbiamo cercare di rigonfiare queste gomme ed è possibile farlo con la fede con la consapevolezza di un dio come ascoltiamo nella prima lettura di oggi tratta da esaia siamo a capitolo quarantesimo dal versetto 25 al versetto 31 c'è una situazione difficile il popolo di israele vive l'esilio e allora sembra che dio si sia dimenticato di tutta questa bella gente e allora ecco la parola del profeta la mia via è nascosta al signore e il mio delitto è trascurato dal mio dio dice l'uomo ecco nei confronti di dio non lo sai forse non l'hai udito dio eterno è il signore che ha creato i confini della terra egli non si affatica né si stanca la sua intelligenza è scrutabile egli da forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato anche i giovani faticano e si stancano gli adulti inciampono e cadono ma quanti sperano nel signore riacquistano forza mettono ali come aquile corrono senza affannarsi camminano senza stancarsi ecco allora il brano del vangelo l'invito che accogliamo da parte del signore siamo al capitolo undicesimo di matteo versetto 28 al versetto 30 gesù disse venite a me voi tutti che siete stanchi oppressi e io vi darò ristoro prendete il mio gioco sopra di voi imparate da me che sono mite e umili di cuore e troverete ristoro per la vostra vita il mio gioco infatti è dolce il mio peso leggero ma veramente quando noi siamo sconfi nella nostra vita andiamo lo signore ci nutriamo della sua parola della sua presenza sicuramente sì la memoria di sant'ambrogio di cui veramente oggi guardiamo la grandezza di questo uomo un altro nel 340 in germania è poi diventato per carriera politica prendendo le raidini del padre anche governatore di milano e nel 374 l'era prefetto scusate a milano e in tempo anche di crisi addirittura è stato bravo anche per mediare alcune situazioni e fu acclamato a voce di popolo vescovo di milano questo avvenne nonostante fosse catecumeno ambrogio fu battezzato ordinato sacerdote poi vescovo il 7 dicembre di quello stesso anno del 374 e la sua vita è stata una vita bellissima perché aveva una dottrina profonda i padri della chiesa erano su panni quotidiano sant'agostino vi ricordate quando è andato in bilano per voler a che fare con ambrogio è troppa sapienza cioè questo uomo ne è rimasto polgolato da lì iniziato il suo cammino di conversione ecco ambrogio al momento della morte che avvenne sabato santo le 4 aprile 397 si può dire che è stato un uomo che ha saputo veramente portare dio nel cuore della sua della sua diocesi in quella che poi prenderà anche il rito di rito embrosiano in quella sua continua predicazione e magistero dio si fa maestro diceva illumina lo spirito di ciascuno e gli diffonde la chiarezza della conoscenza per poco che tu apra la porta del tuo cuore accolga la grazia del cielo e l'ora del dubbio affrettati a cercare e il verbo di dio e nessun altro che ti aprirà bene tanti auguri anche coloro che portano il nome ambrogio tanti auguri ai milanesi viva sant'ambrogio ecco vi auguro allora di vivere una santa giornata un buon cammino di avvento ci vediamo domani per il nostro appuntamento ciao ciao ciao